e amiche e amici di Super J buongiorno ben Ritrovati a di prima mattina la rassegna stampa targata Super J lunedì 25 gennaio 2021, siamo pronti come sempre a darvi il buon inizio di settimana, prima parte della nostra rassegna stampa dedicata ovviamente alla lettura dei principali argomenti sul quotidiano Il Centro e sul quotidiano Il Messaggero, seconda parte invece Spazio Talk, essendo lunedì dedicheremo ovviamente tanto spazio allo sport analizzando le partite che si sono svolte appunto nel finale. Settimana da poco trascorso, ma cominciamo come di consueto la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del principale quotidiano abruzzese ovvero il quotidiano Il Centro che in questo caso dedica Spazio a un caso di cronaca, quattro dispersi in montagna e successo nella provincia, insomma nella zona di Avezzano, una notte di angoscia sul velino per tre giovani e un sessantenne. Stiamo vedendo anche le immagini per quanto riguarda appunto i dispersi che in questo momento sono insomma sono in corso le ricerche per quanto riguarda la zona sul velino. Tra l'altro in riguardo invece l'emergenza del coronavirus si parla di vaccini, in questo caso agli overe 80 c'è un mese di ritardo, due mesi invece per tutti gli altri. Quindi insomma proseguono anche un po' le polemiche riguardo questo ritardo appunto nella somministrazione dei vaccini. Si parla anche della ripresa in Abruzzo, ristoratori e artigiani che dichiarano benvenga la zona gialla. Per quanto riguarda invece i casi, Parruti dichiara casi in aumento, bisogna stare attenti alle varianti. Siamo sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Centro, in questo caso si parla nel taglio medio anche della politica nazionale, la crisi di governo con Conte che rischia il pressing per aprire a Italia Viva la domenica politica che si è appunto segnalata da una parte per le pressioni su Conte a riaprire il dialogo con l'Italia Viva passando per le dimissioni al Quirinale. Di Maio comunque proprio ieri ha paventato l'ipotesi del voto in caso appunto di bocciatura mercoledì del ministro Bonafede. Siamo sempre sul taglio medio, in questo caso gli argomenti del territorio. A Teramo il sindaco d'Alberto che dichiara ora i progetti per i fondi UE nella caccia ai fondi appunto del Recovery Plan, il comune di Teramo che ha creato una cabina di regia nella quale è incluso anche enti non territoriali come ANAS e Rete Ferroviaria Italiana. Ovviamente leggeremo nello specifico tra poco. A Giulianova invece si parla di coronavirus positive, quattro maestre è stata chiusa una scuola. Sempre a Teramo aveva un bar, vedete qui, pieno di debiti, lo salva la legge anti suicidi. Vediamo poi anche un altro argomento, gli eventi che sono fermi, le imprese si associano. A Teramo nasce un consorzio tra le attività messe in ginocchio dalla pandemia. A taglio basso della prima pagina del quotidiano, il centro si parla del calcio di Serie C in primo piano con il buon pareggio del Teramo a Palermo. I biancorossi che tornano a casa con il risultato di 1 a 1, Paci che passa al modulo a tre punte, un modulo che ha funzionato. Quindi con il 4-3-3 buono il risultato ottenuto dai biancorossi. Si parla anche di basket con l'ottava giornata, la prima giornata di ritorno per quanto riguarda proprio il campionato di Serie B. Una giornata molto interessante che vede Roseto vincere a Iesi, vince e convince e soprattutto conquista il primato solitario in classifica. La formazione di coach Toni Trullo accuota 12 punti, grandissima vittoria anche del Giulia Basket Giulianova contro una delle corazzate del girone Ancona. Vittoria netta dei ragazzi di coach Andrea Zanchi. Giornata invece negativa per la Teramo a Spicchi che perde a Civitanova allo scadere con una tripla realizzata da Andreani che regala appunto la vittoria. I conseguenti due punti alla formazione marchigiana, momento abbastanza delicato adesso per la società del presidente Nardi. Da quando è arrivato coach Salvemini il bilancio parla di una vittoria e tre sconfitte. Tra l'altro poi anche qui nello specifico faremo le nostre analisi per quanto riguarda ovviamente anche il campionato di basket. Questa è la prima pagina quindi con Roseto in primo piano, Roseto che non molla e passa anche a Iesi. E poi c'è una lunga intervista realizzata a Galeone, vedete qui gli 80 anni di Galeone e la mia vita all'attacco. Questi i principali argomenti quindi sulla prima pagina del quotidiano Il Centro. Adesso entriamo nello specifico, andiamo a vedere la situazione nella nostra regione per quanto riguarda la pandemia insomma dovuta al covid che crea automaticamente anche in parallelo la crisi economica. I baristi e infatti i ristoratori sperano e dichiarano fascia gialla è un buon segnale. Dopo l'annuncio di Damario le associazioni di categoria parlano di un possibile rilancio. Il quadro generale però è pesantissimo, le perdite ammontano a 2 miliardi di euro. Vediamo anche qui nello specifico i dettagli, il turismo montano è almeno 100% di presenze mentre la media annuale sfiora il meno 50% rispetto al 2019. Il settore abbigliamento perde dal 65 al 75% mentre la ristorazione sfiora il 90%. Vediamo anche qui nello specifico un titolo tra l'altro che era stato scritto ieri sempre sul quotidiano Il Centro da domenica 31 Damario dichiara torneremo in fascia gialla ovviamente domenica 31 gennaio. Il direttore regionale della sanità anticipa le disposizioni sulla base degli ultimi dati e dichiara dopo anziani e persone fragili toccherà le forze dell'ordine e agli insegnanti essere vaccinati. Vediamo anche la situazione riguardo le imprese, i dati di Union Camere, imprese che sono in difficoltà ma c'è anche chi investe, reggono servizi, tecnologia e istruzione, male l'agricoltura. Questa quindi l'analisi effettuata sul quotidiano Il Centro, anche qui leggiamo nello specifico i dettagli con 6.939 iscrizioni e 6.606 cancellazioni, l'Abruzzo fa registrare una leggera crescita nei numeri a soffrire di più, sono stati anche commercio, manifatturiero, alloggi, ristorazione e costruzioni. Continuiamo la nostra rassegna stampa, in questo caso parliamo dell'epidemia a livello sanitario, parla l'esperto, l'infettivologo Parruti, aumentano i casi e Parruti dichiara attenzione alle varianti. In Abruzzo 325 nuovi contagi e tasso di positività in crescita rispetto ai tamponi. eseguiti l'infettivologo Parruti che prosegue nel suo commento dichiarando tutti ora devono mantenere alto il livello di guardia anche i vaccinati. Vediamo anche qui gli altri dettagli, soprattutto la mappa del contagio, la consueta mappa. Ieri sono stati rilevati 325 nuovi casi nella nostra regione di età compresa tra i 4 e i 99 anni, primato tra virgolette nella speciale classifica giornaliera alla provincia di Pescara con 119 casi, segue Chieti con 88, Teramo con 65 nuovi casi, L'Aquila con 49, rapporto positivi tamponi ieri è stato del 6,9%, praticamente il 7%. Parliamo anche dei lavori in autostrada con il traforo del Gran Sasso, vedete qui altri 7 giorni di chiusure sulla A24, stop alla circolazione di notte da oggi fino a domenica prossima. Vediamo anche qui nel dettaglio interessato il tratto tra le uscite di Assergi e San Gabriele Colledara in direzione L'Aquila A25 Roma, viabilità sospesa mercoledì dalle 22 alle 6, al bivio A14, A25 Torano Pescara per chi proviene da Ancona. Vediamo anche qui la didattica in presenza, avanti al 50%, solo poche scuole hanno deciso di riaprire al 75% degli studenti desiati della CISL che ha commentato serve ancora cautela. Apriamo adesso la pagina invece locale, quindi dedicata appunto a Teramo e provincia e vediamo qui, è un titolo che abbiamo letto poco fa anche nella prima pagina del quotidiano Il Centro, nasce Asso Eventi per salvare centinaia di imprese dal tracollo. Il settore legato ai matrimoni, ai congressi, dalla ristorazione alla moda è stato messo in ginocchio e il presidente Marco Adriani che dichiara, chiediamo ai politici che ci diano certezze, e un progetto per la riapertura. A Giulia Nova invece, positive 4 maestre, chiude la scuola Braga da oggi e fino a nuove indicazioni soltanto didattica a distanza per gli alunni della scuola primaria. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, torniamo adesso a Teramo con la caccia ai fondi dell'Unione Europea, il piano del comune, il sindaco d'Alberto che dichiara voglio progetti di area vasta, il sindaco che punta sulle grandi infrastrutture e include nella cabina di regia enti non territoriali come Anas e Ferrovie. Vediamo anche le dichiarazioni del sindaco d'Alberto che appunto commenta non dobbiamo avvitarci su questioni localistiche ma guardare oltre i nostri confini. L'obiettivo è proporre solo interventi condivisi su cui è già stata fatta una sintesi. A Bisenti poi un'altra notizia messa con l'arcivescovo Valentinetti, Bisenti che celebra a Canzi il quindicenne riconosciuto venerabile. A Bellante invece per il maltempo, vedete qui tetto sollevato dal vento, complesso intervento di notte per mettere in sicurezza l'edificio. Vedete anche le fotografie con l'intervento dei vigili del fuoco. Un altro caso adesso legato ovviamente anche all'emergenza economica, alla crisi economica, era sommerso dai debiti salvato ex titolare di Bar. Un 49enne teramano per più di 15 anni ha cercato di pagare 170 mila euro, poi ha fatto ricorso alla legge antisuicidi e fra quattro anni uscirà dall'incubo. Nel centro di Atri invece un giovane, vedete qui, gratta e vince 10 mila euro, prima esulta insieme ai titolari della tabaccheria, poi ovviamente si dilegua per non attirare in un certo senso l'attenzione. A Tortoreto invece chiesti al comune bolli mai pagati sugli scuolabus. Continuiamo sempre la nostra rassegna stampa, siamo in fase conclusiva per quanto riguarda la pagina di cronaca del quotidiano Il Centro, a Sant'Egidio alla Vibrata, premiati gli alunni più creativi delle scuole medie. Mentre a Giulianova, vedete qui, monumento danneggiato ed è polemica. Durante lavori in piazza dalla Stele per i caduti del mare si stacca l'ancora e l'opposizione attacca, ma cita un danno vecchio, replica al veleno da parte del sindaco Costantini. Quindi insomma c'è stata questa polemica per il monumento ai caduti del mare. A Roseto invece la Ruzzoreti che sollecita il saldo di quattro bollette già pagate per un totale tra l'altro di 175 euro circa. Vedete qui infatti il legale degli utenti che fa una segnalazione al garante, alla Guardia di Finanza e commenta, casi simili sono troppo frequenti. Questi quindi i principali argomenti per quanto riguarda la pagina di cronaca del quotidiano Il Centro. Adesso ci trasferiamo sul quotidiano Il Messaggero. In questo caso si parla di risonanza magnetica con la ASL di Teramo, che è la cenerentola d'Abruzzo. Ci vogliono infatti oltre sei mesi, leggiamo per le prenotazioni, 10 mesi per la mammografia, 2 mesi per una TAC. Sono stati codificati nuovi sistemi con app per ribattere all'obsolescenza tecnologica. Secondo gli studi la vita media delle attrezzature è nettamente superiore a quella standard. Quindi insomma è stato fatto questo studio per quanto riguarda la risonanza magnetica. Una notizia adesso di cronaca, la scomparsa a Roseto a causa di un infarto si è spento Chico Bruni, il nonno fu sindaco, lo zio invece fu primario. Vediamo adesso a Tortoreto una notizia che abbiamo letto anche poco fa. Bolli scuolabus non pagati, il comandante chiede i danni. Per quanto riguarda invece a Giulianova, la polemica appunto tra maggioranza e opposizione, il monumento ai caduti del mare è danneggiato e lo scontro diventa politico. Sempre a Giulianova poi la notizia riguardo la positività delle quattro maestre della scuola primaria, quindi scuola a distanza appunto al Braga. Riprendiamo adesso invece la nostra segna stampa, aprendo in questo caso la pagina sportiva e ritorniamo sul quotidiano il centro, aprendo in questo caso ovviamente l'argomento dedicato alla Serie C con il Teramo che ha ottenuto un buon pareggio a Palermo, un pareggio che tra l'altro fa rialzare soprattutto a livello di morale, di consapevolezza, i ragazzi delle tecnico Paci, infatti il Teramo che si rialza a buon pari in terra siciliana contro i Rosanero, al Barbera succede tutto nel primo tempo, Birligea che porta avanti i Biancorossi ma i Rosanero trovano subito il pareggio, quindi il match che termina con il risultato di 1 a 1, ma buona comunque la prova appunto dei Biancorossi con Paci che sorprende, sceglie il modulo il 4-3-3, il diavolo parte subito forte e poi subisce la reazione dei siciliani, nella ripresa succede poco, l'unico squillo per gli ospiti, arriva nel finale con l'occasione di Ilari. Andiamo anche a vedere, a leggere le dichiarazioni nel post partita con Paci che si coccola Birligea e dichiara è un esempio per tutti, il tecnico infatti prosegue, Birligea doveva andare via, è stato il migliore, ho cambiato modulo, perché con il 4-2-3-1 non eravamo più fluidi e l'attaccante che tra l'altro appunto ha realizzato anche la rete per il Teramo ha commentato peccato per l'infortunio. Tra l'altro sabato c'è l'anticipo al Bonolis contro il Bari appunto e qui c'è diciamo una buona notizia perché ritorneranno Diachite e il capitano Arrigoni. Siamo sempre sul quotidiano Il Centro, in questo caso parliamo del campionato di Serie D nel Girone F nello specifico, la vittoria della Vastese, la Vastese che spezza il digiuno, Martinez firma la riscossa, i biancorossi calano il tris al vasto Girardi e tornano alla vittoria dopo tre mesi di astinenza. L'attaccante segna un Eurogoal e serve l'assist alle noci, chiude i conti un rigore di Diarra, quindi vince 3-1 la Vastese, i molisani che trovano il momentaneo pareggio dal dischetto con Mercai, ma sbagliano l'approccio alla partita. Vince anche il Castelnuovo contro la Recanatese, il Castelnuovo che si riprende la vetta, croce, nel finale beffa proprio la formazione marchigiana, Neroverdi avanti con Terrenzio, poi ripresi da Pezzotti, poi il gol delle regista, il tecnico Di Fabio, che comunque mantiene alta la concentrazione e dichiara voglio prima la salvezza, ma comunque davvero resta fin qui un campionato splendido da parte della matricola Castelnuovo. Parliamo anche di volle, in questo caso della Serie A3, con l'Abbapineto, che è veramente un rullo compressore, a Tricase non a vittoria consecutiva, e conferma del primato in classifica, al fianco di Galatina e Videx, Grottazzolina, quindi davvero grandissimo il momento per i ragazzi del tecnico Giovanni Rosichini. Per quanto riguarda invece la Serie B2 donne, stiamo sempre parlando di volley, la futura Teramo parte con il piede giusto, si arrende il pagliare. Apriamo adesso invece l'ampia pagina dedicata al basket con la Serie A2, la Lux Chieti che non brilla, si arrende anche contro Pistoia, una trasferta amara per i teatini, che sono sempre stati costretti a rincorrere, e questa volta Sorocas non fa la differenza. Parlando invece del campionato di Serie B, partiamo con il blitz della capolista, Roseto che non si ferma più, anche Iesi cede il passo, la Leo Filkem batte in scioltezza ai marchigiani, 68 a 86, e c'entra il terzo successo consecutivo, Biancazzurri che guidano la classifica in solitaria, e domenica c'è la sfida al Civitanova, quindi davvero una grande vittoria per i ragazzi di Coach Trullo, che tra l'altro ascolteremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, grandissima impresa del Giulia Basket Giulianova, vedete schiantata Ancona, Di Carmine e Tiam devastanti, vittoria di prestigio per i giallorossi, 86 a 73 contro, lo ripetiamo, una delle formazioni più forti del girone C2, mercoledì in campo nel recupero contro Civitanova. Ovviamente tutti questi argomenti saranno trattati domani, martedì sera in diretta alle ore 21, nella trasmissione Super Basket, così come sarà ovviamente analizzata la sconfitta della Teramo a spicchi, una Teramo a spicchi che si fa beffare praticamente allo scadere, una tripla di Andreani, dà la vittoria alla Virtus Civitanova, con il punteggio di 82 a 79, Biancorossi senza Francesco Faragalli, ancora infortunato il playmaker titolare, che hanno condotto anche per larga parte dell'incontro, hanno raggiunto anche le 10 lunghezze di vantaggio, ma alla fine decide una tripla di Andreani e coach Salvemini è abbastanza amareggiato nel post partita, ha dichiarato, dobbiamo essere bravi a capire quando è il momento di chiudere la partita. Quindi insomma, momento anche un po' difficile, tra virgolette, per la Teramo a spicchi, che tra l'altro domenica prossima è chiamata a compiere anche un'altra impresa, perché riceverà sempre al pala acqua viva la corazzata Fabriano, un match che tra l'altro, vi anticipiamo, trasmetteremo in diretta sulla nostra emittente, sul canale 634. Chiudiamo adesso invece il capitolo dedicato al basket, con un'altra bella notizia, in questo caso il basket in carrozzina, la Micacci Giulianova, per quanto riguarda il campionato di Serie A, parte con il piede giusto e piega Padova, 63 a 54 per i ragazzi allenati da Gemi Ozzchan. Quindi davvero bella vittoria, anche bell'esordio, per l'amicacci Giulianova. Ci trasferiamo adesso nuovamente sul quotidiano Il Messaggero, anche qui andiamo a vedere la pagina sportiva, partendo come sempre dal calcio e partendo dal pareggio del Teramo contro il Palermo. Pari a Palermo, la sorpresa è Birligheia, finisce 1-1 con il Palermo al Barbera, continua la mancanza di vittorie, però va a segno la punta schierata nel nuovo modulo. Resta tra l'altro il sesto posto in classifica, quindi il Teramo che sotto questo punto di vista è stato anche, tra virgolette, fortunato a non essere sorpassato in classifica. Paci che commenta, ho cambiato modulo, è andata bene con il Tridente, con il 4-3-3. Birligheia a segno e dichiara, mi sono fatto trovare pronto, peccato per l'infortunio. Vediamo anche il campionato di Serie D, va stese tre gol in cascina e la crisi è già archiviata. Battuta la Vasto Girardi per 3-1, a segno Martinez, Lenoci e Diarra su calcio di rigore. Da Derio che commenta, impresa nonostante le assenze. Vediamo poi anche qui, sempre nel campionato di Serie D, la vittoria del Castelnuovo, una vittoria per la vetta, battuta 2-1 la Re Canatese di Giampaolo, grazie alle reti di Terrenzio e Croce, nel finale. Resultanza ovviamente dei giocatori del tecnico Di Fabio, che commenta, sono stati decisivi i cambi. Successo poi meritato per i Neroverdi, che sono tornati leader, sono state anche sprecate, tante occasioni da gol, quindi segno davvero che il Castelnuovo ha la mentalità vincente, crea tante occasioni, anche il giusto cinismo. Giulianova, primo passo verso la salvezza, non si giocherà il recupero, tra l'altro a Montegiorgio, lo ricordiamo Giulianova, che viene da un ottimo pareggio tenuto contro la corazzata Campobasso, ne parleremo a breve, e vedremo anche il servizio della partita. Vediamo adesso una notizia riguardo il volley, con l'Abbapinetto, Abba Pineto superstar, a Lecce suona la nona, e resta in vetta, poco più di un'ora, per espugnare 3-0 il Palasport Salentino, quindi davvero non una vittoria consecutiva per la formazione pinetese. Per quanto riguarda invece il basket, la 2 Luxchietti, a Pistoia sconfitta dignitosa, finisce 86-74 per i Toscani, non bastano le buone prestazioni di Bozzetto e Meluzzi, ancora deludente Sorocas, con soltanto 8 punti realizzati. Per quanto riguarda invece il basket di Serie B, Roseto e Giulianova successi d'oro, la Teramo a spicchi, che finisce KO, Pastore e Diemidio sono i trascinatori per i Biancazzurri, Tiam invece è il protagonista per il Giulia Basket, Giulianova che batte la corazzata Ancona. Chiudiamo infine con una notizia riguardo la palla a mano, con i Lions Teramo che perdono a Camerano, e le ragazze invece vincono di misura. Questa è quindi la domenica per quanto riguarda l'handball bianco-rosso. Termina quindi la prima parte della nostra rassegna stampa, adesso come di consueto diamo la linea alle previsioni del tempo, facciamo poi una breve pausa, ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a Di Pria Mattina. Buon lunedì a tutti. Dopo la pausa di questa notte torna una breve fase di maltempo a causa della formazione di un vortice depressionario sul nord Italia, che si sposterà presto sull'Adriatico, e questa sera notte sarà già sui Balcani. Le precipitazioni saranno ancora una volta concentrate principalmente sulle regioni centrali. Da questa sera giungerà anche aria più fredda proveniente dai Balcani con sensibile abbassamento delle temperature. In Abruzzo precipitazioni di debole intensità sin dal mattino in tutta la regione, con attenuazione dei fenomeni a partire dalla sera, possibili deboli nevicate in serata fino a quote di bassa montagna, 700-800 metri. Attenzione al vento, che tornerà già da questa mattina a soffiare forte sui monti, ma con la possibilità anche di sconfinare fin sui fondovalle le versanti adriatici. Il mare sarà mosso o molto mosso. Le temperature sono previste stazionare per quanto riguarda i valori massimi, compresi tra 5 e 10 gradi, in diminuzione le minime con valori compresi tra meno 3 e 6 gradi. Un saluto da Marco. Bene, rieccoci di nuovo qui, bentornati a Di Prima Mattina. Cominciamo, come di consueto, la nostra seconda parte della rassegna stampa con la parte talk. Ampio spazio dedicato ovviamente allo sport, con tante analisi. Vedremo i servizi per quanto riguarda le partite del calcio che si sono giocate. Parleremo anche di basket. Abbiamo, come sempre, l'ospite giusto. Saluto con piacere il collega Giacomo Novelli. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te ovviamente, Giacomo, per averlo accettato, per averci dedicato il tuo tempo. Allora, tantissimi gli argomenti di cui parleremo. Cominciando, come di consueto, dal calcio, dalla Serie C, andando a vedere quanto è successo nell'ultimo turno per quanto riguarda ovviamente il Girone C. Giunto di fatto alla ventesima giornata, prima giornata di ritorno. Gli anticipi che hanno visto la vittoria del Monopoli contro la Juve Stabia e del Catanzaro contro il Potenza. Poi nell'anticipo di domenica, insomma di ieri, delle 12.30, buon pareggio del Teramo contro il Palermo. 1-1 il risultato al Barbera tra appunto Palermo e la formazione allenata dal tecnico Paci. Poi il poker del Bari contro la Virtus Francavilla, rinviata per maltempo, Paganese-Catania, Vibonese-Cavese termina sull'1-1, la vittoria esterna della Ternana contro la Viterbese, Bisceglie-Foggia termina a reti inviolate, colpo esterno dell'Avellino sul campo della Turris. Ha osservato un turno di riposo la Casertana. La Ternana quindi in classifica che continua la sua marcia inarrestabile, 49 punti, il Bari a 41, Avellino 34, Catanzaro 31, Catania 30, il Teramo che mantiene il sesto posto in classifica. Vedete lì, insomma, quota 29 punti insieme al Foggia, la Turris che resta a 27, Palermo 25, Juve Stabia 23, Vibonese Virtus Francavilla 22, Casertana 21, Monopoli 20, Viterbese 18, Potenza 16, Bisceglie a 15, penultimo posto per la Paganese a quota 12, chiude la Cavese a quota 9 punti. Allora, prima di entrare anche nell'analisi specifica con il nostro ospite, andiamo a vedere proprio il servizio del match tra Palermo e Teramo e poi commentiamo qui studio. La vittoria resta una lontana compagna di viaggio per il Teramo, a secco da 9 turni, ma il pareggio che inaugura il girone di ritorno a Palermo, 1-1, è un risultato che pesa. Per il valore dell'avversario, niente a che vedere con il fragile 11 affrontato all'andata e per lo spessore della prestazione offerta dai Biancorossi, soprattutto nel primo tempo. Al Barbera si affrontano all'ora di pranzo due squadre scottate dai rispettivi K.O. nell'ultima di andata, Rosanero con la Virtus Francavilla a domicilio, Biancorossi a Viterbo. Novità tattica per Paci che passa al 4-3-3, schierando a sorpresa Birlighea nell'11 iniziale, al posto di Lari nel reparto avanzato, completato da Bombaggi e Pinsauti. Al centro della difesa, Soprano sostituisce lo squalificato di Achite, mentre a centrocampo, Orfano di Arrigoni, operano Viero e Santoro, più l'inserimento da Mezzala di Mungo. Buon approccio del Teramo che a nono va vicino al vantaggio, con Pinsauti che spaccata sfiora il bersaglio grosso. Il diavolo in palla e al diciannovesimo fa le prove generali del gol. Spunto di Birlighea e Rasoterra bloccato da Pelagotti. E' il preludio al vantaggio che arriva un minuto dopo per merito proprio del giovane rumeno prodotto del vivaio siciliano. Difesa di casa altissima, Pinsauti la buca con un filtrante per Birlighea che elude il fuorigioco e a tu per tu col portiere avversario lo fredda con precisione. Lo schiaffo sveglia il Palermo che nell'ultimo quarto d'ora si fa decisamente più pericoloso e trova il pareggio alla prima occasione. Alla mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lucca stacca più in alto di tutti e incrocia il rete sul secondo palo. Proteste biancorosse per un presunto fuorigioco ma per la terna arbitrale il gol è valido. La gara si accende e le occasioni si susseguono. Al trentatresimo altro brivido per la difesa del Teramo per una conclusione mancata da Luperini. Subito dopo bella acrobazia di Pinsauti che trova la risposta di Pelagotti. In avvio di ripresa Paci perde Birlighea per infortunio, problema muscolare. Entra Di Francesco. Al sessantaduesimo tra i rosa nero c'è anche l'esordio del neo arrivato De Rose, ex regina. Paci toglie anche Viero, ammonito salterà il Bari mandando in campo Ilari che pochi minuti dopo il suo ingresso si becca il giallo per simulazione. La partita la fa il Palermo nella seconda frazione. La squadra di Boscaglia prova ad approfittare del calo del Teramo al sessantottesimo con Lucca che si gira nello stretto ma trova solo l'esterno della rete. Molto più pericoloso Valente in due circostanze ravvicinate. Al settantunesimo sfiora il palo alla destra di Lewandowski e un minuto dopo cerca il giro giusto trovando la respinta in tuffo del portiere polacco. Il diavolo riesce anche a mettere la testa avanti e al settantottesimo Soprano si vede Murato il tiro in mischia. Ultime scaramucce. All'ottantanovesimo il solito Lewandowski nega la rete a somma e a tempo ampiamente scaduto Ilari si libera al tiro ma non trova lo specchio della porta. Finisce con il sesto pareggio nelle ultime nove giornate ma con sensazioni nettamente migliori rispetto alle scorse settimane. Sabato al Bonolis c'è il Bari. Allora questo il servizio della partita appunto tra Palermo e Teramo e insomma commentavamo a microfoni spenti e voglio anche commentare a microfoni aperti perché giustamente tu hai notato e io concordo pienamente fa un bellissimo effetto vedere il Teramo al Barbera insomma essere di scena al Barbera e non sfigurare tra l'altro. Dove correva Cavani, dove correva Niccoli, Toni, insomma grandi giocatori. Vedere i nostri fa un bel effetto, devo dire che è un punto che mi sembra ne possa valere due in questo momento dopo che per tanto tempo non si è arrivati alla vittoria. Vai a pareggiare su un campo comunque storico e difficile con un nuovo modulo quindi tanti argomenti intrinseci in una partita però poi c'è anche da dire che si va a vedere la prossima partita che è una partitella esattamente non proprio. Non proprio facile facile, hai detto che comunque ci saranno due buoni rientri quindi è un momento insomma un po' delicato ecco, né troppo positivo né troppo negativo perché comunque la vittoria ancora manca però è un punto come dicevo che vale doppio. Concordo sul insomma che il momento sia ancora particolare Giacomo allo stesso tempo e anche oggi insomma la carta stampata lo ha confermato ma anche poi la conferenza stampa ieri del tecnico Paci. Questa è una partita che in generale ha dato davvero molti segnali positivi è ovvio che il Teramo giustamente tu fai notare ed è giusto dirlo non vince in pratica da due mesi però ecco questa partita ha dato segnali completamente diversi partendo dal modulo che ha funzionato bene quindi segno che se sei un po' più sfrontato non sfiguri a Palermo insomma non è l'ultimo dei campi. Può dare la giusta scossa anche per il match poi impegnativo contro il Bari? Mi è venuto da pensare quanto nel calcio a volte le cose semplici sono quelle che funzionano di più. Tu non riesci magari a segnare basta che dalla classica punto centrale ne metti tre e qualcosa cambia. Poi devo dire che comunque questo poteva dare uno sbilanciamento in avanti eccessivo che comunque non c'è stato per certo a parte il gol subito insomma e la grande parata di Lewandowski a parte questo insomma è stato tutto molto controllato dalla squadra. Come detto adesso arriva una partita difficile ma comunque abbiamo sempre detto Bari e Ternana fanno un campionato a parte fanno un campionato che si proietta verso un gradino insomma in più e il Teramo deve cercare di rimanere agganciato a un treno che si chiama playoff. Quella è la dimensione quello è il sogno se vogliamo l'obiettivo anzi quindi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno. E riguardando anche con calma la classifica mi veniva appunto da pensare Giacomo mentre giustamente facevi la tua analisi che il Teramo nonostante tutto ecco nonostante due mesi in cui non vinci in cui ovviamente sei un po' stai affrontando una bufera praticamente perché potresti essere poi risucchiato nelle zone più a rischio. Anche ieri comunque nella sfortuna di questo periodo generale dove gli episodi insomma non vanno tanto a tuo favore sei stato fortunato perché comunque Foggia e Turris non ne hanno approfittato. Pareggio per la formazione pugliese la Turris invece che perde e mantieni comunque il sesto posto in classifica in questo momento. Tenendo comunque nel mirino vedete lì Catania e il Catanzaro. Che è una classifica comunque molto strana ecco sicuramente perché poi vai a vedere le ultime posizioni 9-12 quindi ci sono sembrano molto lontane no? Certo. Però al tempo stesso il gruppone di metà classifica è lì comunque la Vibonese a 22 insomma siamo lì detto questo si sta anche a un punto in meno al Catania due punti in meno al Catanzaro quindi le vette le posizioni alte sono raggiungibili certo poi bisogna sempre guardarsi dietro come dicevi giustamente tu però ecco come dicevo prima l'obiettivo deve essere quello di rimanere agganciati a un determinato treno che conosciamo bene che inizio stagione insomma stavamo iniziando ad abituarci bene quindi vogliamo mantenere. Tra l'altro anche ieri nel corso di G-Live domenica con il nostro ospite facciamo un po' delle analisi riguardo il fatto che adesso cominciando il girone di ritorno ricomincia anche la serie di partite difficili quelle appunto vedi anche il prossimo impegno contro il Bari. Al girone d'andata il Teramo fece benissimo proprio con questo tipo di squadre non con quelle tra virgolette meno forti perché squadre deboli secondo me non è che ce ne siano. Ti chiedo anche insomma se puoi iniziare questo trend ovviamente gli avversari adesso ti conoscono però insomma a Palermo comunque hai pareggiato hai ottenuto quattro punti contro di loro a Bari hai pareggiato altro stadio insomma come il San Nicola ci puoi credere? Sì ci devi credere ci devi credere poi come dicevi tu sembra una squadra adatta per giocare i big match sembra una squadra adatta per essere sfrontata per essere insomma sorpresa più che dominatrice dell'incontro contro appunto metto tante virgolette perché è il caso contro una piccola. che è un atteggiamento se vogliamo da doppia faccia sia buono che negativo in realtà perché comunque deve essere concentrato sempre questa è la la filosofia della grande squadra però ecco approfittiamo di questo piccolo questa piccola caratteristica sperando di riuscire a fare lo sgambetto a una grande perché sarebbe tanta roba per la prossima settimana. Assolutamente ovviamente partita che seguiremo tra l'altro scendendo adesso di categoria andiamo a vedere invece quanto è successo nell'ultimo turno del campionato di serie D anche qui seguiamo nello specifico il girone F il pareggio del Giulianova a breve vedremo anche il servizio sul campo del campo basso questo è un punto che secondo me ne vale 6 praticamente per diciamo il morale perché Giulianova che ottiene un punto davvero pesantissimo contro una corazzata poi l'Olimpia agnonese che pareggia col Cinzia al balonga stesso risultato tra Priglia e Fiuggi e Castelfidardo Rieti il Castelnuovo che approfitta proprio del pareggio dei Rieti per battere la Re Canatese 2 a 1 tre le partite rinviate Matese Porto Santelpidio Montegiorgio Pineto Notaresco Tolentino Lavastese che batte 3 a 1 il vasto Girardi andiamo quindi a vedere la classifica perché è una classifica interessante con il controsorpasso vedete lì del Castelnuovo primo in classifica appunto a quota 25 punti Rieti 24 Campobasso 21 Notaresco e Cinzia al balonga 20 punti Vasto Girardi e Pineto li vedete a quota 16 via via tutte le altre formazioni per quanto riguarda la parte destra Lavastese che ottiene 3 punti molto pesanti in ottica ovviamente salvezza a quota 13 punti la formazione aragonese il Giulianova che sale insomma recupera un punticino a quota 6 punti in classifica Cominciamo i nostri servizi andando a vedere la vittoria del Castelnuovo contro la Re Canatese e poi commentiamo qui studio Nel campionato dei rinvii e dell'incognite una certezza è il Castelnuovo che torna in vetta alla classifica in un girone F falcidiato da legare non disputate e da recuperare I neroverdi gli unici al pari del Rieti ad aver disputato 13 partite si prendono lo scalpo anche della Re Canatese costringendo i leopardiani al primo stop in stagione come era già successo contro il Campobasso E ritrova la squadra del patron Marini la vittoria a casalinga a distanza di oltre due mesi mancava dal 20 dicembre proprio contro i molisani 25 punti in classifica ottavo successo stagionale per un Castelnuovo che non può più definirsi una sorpresa Mister di Fabio senza lo squalificato sbarbati l'infortunato Titone schieramento tipo per i neroverdi sul fronte opposto il rientrante Federico Giampaolo deve rinunciare a Brunetti all'infortunato sbaffo in avanti coppia d'attacco formata da Pera e dall'ex Teramo Piccioni solo panchina per l'ex di turno De Chirico uno dei protagonisti del salto in D dei padroni di casa la prima parte del match è piacevole con continui cambi di fronte anche se i due portieri non devono praticamente mai intervenire al minuto 25 proteste della Re Canatese per un intervento ai danni di Piccioni Gemelli di Messina lascia proseguire la pioggia sale di intensità e dal 34esimo è lo specialista all'Oviso ad impegnare il numero uno ospite che si distende e devia in angolo la risposta doppia dei leopardiani arriva nello spazio di un minuto 36esimo conclusione di Togolà dopo un'azione manovrata palla che non trova lo specchio della porta 37esimo serve un reattivo intervento di Natale per respingere un tiro di Grieco sventato il pericolo la squadra del presidente Di Flaviano passa corre il minuto 39 l'Oviso batte una punizione laterale nella mischia in aria spunta la testa di Capitante Renzo che mette all'angolino basso il suo primo gol in stagione prima del riposo altre emozioni proprio allo scoccare del 45esimo Pera sfiora il pari con un colpo di testa che lambisce il palo alla sinistra di Natale con le immagini di Gianluca Iezioni passiamo al secondo tempo che si apre al secondo dagli sviluppi di una punizione fallo di mano in aria di Terrenzio l'arbitro indica subito il dischetto salvo poi tornare sui suoi passi vista la segnalazione del suo primo assistente Morea Di Molfetta che segnalava una posizione di fuorigioco precedente ma il pari della Re Canatese è solo rinviato al sesto infatti filtrante da applausi di Pera che mette in porta Pezzotti il numero 11 giallorosso entra in aria e in diagonale Beffa Natale per il suo secondo gol consecutivo dopo quello contro il Castelfidardo di sette giorni ursono per diversi minuti la Re Canatese si fa preferire rispetto ai peroni casa che al diciannovesimo tornano però a rendersi pericolosi con fagioli sugli sviluppi di un angolo il colpo di testa del numero 9 Santarelli battuto salva sulla linea bianca Raparo uno dei nei entrati tra i marchigiani senigallesi si destregge in un'azione personale al 32esimo Natale si fa trovare pronto e dal corner successivo l'estremo difensore di casa è ancora reattivo sul colpo di testa di Ferrante e sui tentativi successivi di Pera nulla di fatto il finale è tutto del Castelnuovo al 38esimo grande occasione con il volo d'Angelo di Fagioli il palo salva gli ospiti ma tre giri di lancette più tardi ecco il nuovo vantaggio per i neroverdi Crosse di Foglia è entrato benissimo in campo sul secondo palo Sponda di Di Ruocco per la corrente Croce che a centro area di Piatto mette alle spalle di Santarelli prima gioia stagionale per il centrocampista Exe Chieti che lascia il campo tra gli applausi per far luogo a Manari prima del tripice fischio ancora un'iniziativa dello scatenato Foglia che con il suo ingresso ha cambiato l'inerzia del match il diagonale è fuori di un niente poi c'è spazio solo per la festa del Castelnuovo che torna a guardare tutti dall'alto Allora, questo è il servizio della grande e bella vittoria del Castelnuovo Giacomo, io concordo con il collega Matteo Falzon che ha curato il servizio non è più una sorpresa oggettivamente perché non sei lì per caso No, è verissimo soprattutto perché se andiamo a considerare e analizzare il tipo di mentalità è quella da grande squadra poi inoltre sono passati mesi dall'inizio quindi non si può più parlare di sorpresa vai in campo con un atteggiamento veramente spregiudicato veramente giusto da grande cerchi di vincere la fine alla fine quasi sfiori il 3-1 quando la tua avversaria ha comunque giocato molto bene quindi solo applausi per questa squadra Solo applausi e tra l'altro commentavamo anche il fatto che contro una formazione di primissimo livello Castelnuovo che non si accontenta perché lì oggettivamente puoi anche tra virgolette è ovvio che giochi per vincere però non vuoi neanche rischiare sei sull'1-1 ottieni comunque un buon pareggio contro una formazione forte anche costruita per stare nelle zone alte non ti accontenti e ottieni 3 punti esatto e poi soprattutto come dicevo il tuo avversario ha giocato molto bene quindi non puoi neanche insomma avere idee veletarie di poterlo chiudere nella propria area di rigore quindi sicuramente poteva venire in mente il pensiero mi accontento del pari una squadra comunque grande che ha giocato bene sul tuo campo ci sta un punto invece no e come ho detto si rischiava anche di fare il 3-1 quindi la mentalità sicuramente sta indicando la strada per la squadra assolutamente chi ha ottenuto anche un punto pesantissimo nell'anticipo è stato il Giulianova sul campo del Campobasso torna quindi a muovere la classifica la formazione giallorossa vediamo il servizio e poi commentiamo qui studio passo falso del Campobasso 0-0 contro un Giulianova coriaceo ma modesto il punto piace moltissimo a Bitetto non può dire la stessa cosa Cudini che deve ritrovare lo smalto dei suoi perso da qualche tempo a questa parte prologo della gara dedicato ai due neosoci statunitensi Matt Rizzetta e Niki Cirincione accolti con affetto da qualche tifoso presente prima del match i due neodirigenti rosso-blu promettono di portare il Campobasso degli underdogs nel professionismo dirige il signor Moretti di Valdarno Campobasso abbastanza svagato Giulianova fa una gara ordinata succede poco in fatto di cronaca al 26esimo la corsa di Vitali premia Esposito che però spara altissimo Cudini comanda quasi subito il riscaldamento dei panchinari mentre Bitetto vive con foga la partita dalla panchina i Giuliesi si concedono contropiede interessanti al 29esimo rosso-blu anche sfortunati sulla conclusione vellutata di Esposito dal limite c'è l'intercettamento di Cogliati che per poco non beffa Amadio Campobasso abbastanza involuto ma che riesce a darsi una scossa soltanto nel finale di tempo al 37esimo Vitali intercetta un taglio da sinistra ma Amadio blocca un quasi replay solo due minuti più tardi quando il pallone crossato da Cogliati è staccato da Vitali grande la parata di Amadio che poi si ripete in maniera prodigiosa anche su bontà la migliore pallagol del primo tempo rosso-blu i campobassani insistono al 44esimo Esposito va verso la porta la conclusione subisce la deviazione di Ancinelli in angolo Campobasso Giulianova è condensata in queste occasioni con i rosso-blu che non ci stanno a farsi imporre il pari dai Giuliesi il lupo sembra avere un piglio diverso nella seconda parte al quarto da Vanzanna Cogliati che chiude al lato di pochi metri deve passare un soltanto un minuto per il tiro da fuori dello stesso Cogliati con la respinta spettacolare di Amadio al sesto lo stesso portiere Giuliese a seguito di un'uscita a frana addosso a Cogliati che rimane a terra tramortito tutto regolare per il signor Moretti di Valdarno il campobasso potrebbe passare all'ottavo e il palo a strozzare l'urlo in gola Vitali che si gira in area ma con i tempi giusti i rosso-blu hanno tutto un altro ritmo comincia la girandola di Cambi Bitetto fa entrare Battilana e Paudice al posto di De Cerchio e Campagnacci mentre Cudini inserisce dal diciannovesimo Sforzini nel luogo di Brenci Campobasso in campo con quattro attaccanti al ventottesimo dopo contatto tra Sforzini e Ferrini l'attaccante di casa è l'arbitro si scambiano solo sguardi ma nessuna protesta da parte di Sforzini quest'ultimo alla mezz'ora colpisce di testa su corner di Esposito e anticipa Amadio ma la palla termina a lato al trentacinquesimo punizione di Esposito torre di Sforzini al centro c'è il gol di Tacco di Bontà che viene annullato per fuorigioco dello stesso Sforzini nero su blu dentro Di Domenico Antonio al posto di Cogliati dal trentacinquesimo al trentanovesimo punizione di Di Domenico Antonio esce Amadio tapin di Bontà che si alza di qualche metro sulla traversa il Campobasso attacca ma lo fa senza incisività e lucidità il direttore di gara comanda ben sette minuti di recupero nel corso dei quali siamo al novantaduesimo sono i giuliesi a costruirsi la loro migliore palla goal della partita con un'azione condotta da Danna sulla fascia destra ed il pallone che perviene a Cipriani in posizione centrale il quale calcia alto sopra la trasversale i rosso-blusi riservano un'altra palla goal rilevante un minuto più tardi dal cross di Domenico Antonio arriva lo stacco ad incrociare di Bontà con la sfera che sorvola la traversa tutta qui Campobasso Giulianova che non è stata una bella gara caratterizzata da un Campobasso a Bulico e da un avversario che ha difeso con tutte le sue forze il punticino per i giuliesi è un risultato oltre le aspettative per il Campobasso un raffreddore che deve chiamare i tecnici rosso-bluso a qualche riflessione in sala stampa al termine della gara saluto fra Gesù Erri Zetta e la stampa presente i due amareggiati per il risultato finale ma inclini a raccomandare alla piazza di rimanere positivi viste le buone intenzioni della società rosso-blu una partita pazzesca Giacomo perché oggettivamente visto tutte le azioni dei padroni di casa Campobasso formazione scientificamente costruita per fare quantomeno un campionato di primissimo livello se non per salire anche nella terza serie nazionale Giulianova che alla fine addirittura ci poteva stare veramente oltre il danno la beffa perché ha rischiato anche di segnare il gol Bitetto che secondo me ha fatto di necessità virtù è entrato al posto di Delgrosso prima partita contro una formazione fortissima catenaccio siberiano si direbbe in questo caso ma hai ottenuto un punto importantissimo che come dicevamo prima le cose semplici nel calcio metti due attaccanti per cercare il gol e ti arrocchi dietro per andare a prendere un punto su un campo che oggettivamente era troppo difficile per il Gironova io penso che tutti davano il Giulianova perché si è spacciato contro il campo basso abbiamo visto le immagini in aumento c'è stato un assedio un assedio totale di 89 minuti perché a parte il minuto in cui il Gironova si è messo lì davanti ha cercato il gol però insomma secondo me è bene così per il nuovo mister perché ci voleva un punto tu ricevi ne vale 6 veramente ne vale 6 perché andare a pareggiare lì è veramente tanta roba poi una squadra non esattamente in salute insomma come i giallorossi ci sta e come assolutamente allora chiudiamo l'ampia parentesi dedicata al calcio passiamo adesso al basket con l'aiuto della grafica andiamo a vedere quanto è successo nell'ottava giornata del campionato di Serie B la prima giornata di ritorno ed è stata una giornata davvero pazzesca sotto tutti i punti di vista innanzitutto la rocambolesca vittoria della Virtus Civitanova contro la Teramo a spicchi che era anche 10 punti di vantaggio ma una tripla di Andreani allo scadere che regala la vittoria ai padroni di casa 82 a 79 Monte Granaro che dopo la vittoria di Roseto è risorta letteralmente terzo successo consecutivo ai danni di Fabriano la corazzata Fabriano 70 a 71 il punteggio a favore della Sutor Giulia Nova che schianta letteralmente Ancona il risultato parla di 13 lunghezze di vantaggio 86 a 73 ma ne sono state anche di più nel primo tempo davvero devastanti di Carmine e compagni che ottengono due punti pesantissimi Roseto che sbanca Iesi nettamente 68 a 86 ed è primato in classifica andiamo a vedere infatti proprio la graduatoria Roseto a quota 12 in solitaria Fabriano e Ancona che perdono quindi la testa della classifica sono a quota 10 punti e poi tutte le altre formazioni a 6 punti Giulia Nova Civitanova Terramas Picchi Iesi e Monte Granaro questa quindi la classifica del girone C2 partendo da chi ha vinto quindi dalla bella vittoria di Roseto a Iesi con il conseguente primato in classifica andiamo ad ascoltare il tecnico biancazzurro Tony Trullo e poi commentiamo qui studio Coach Tony Trullo l'Aleo Filkem Roseto che si conferma terza vittoria consecutiva 12 punti in classifica primato soprattutto in classifica Coach una domenica perfetta anche perché la squadra ha fatto una vittoria veramente da la squadra matura sì abbiamo giocato una partita solida temevo questa partita perché era la terza gara in giro di sette giorni per dopo il recupero con Giulia Nova e invece siamo partiti belli cazzuti dall'inizio abbiamo difeso la vittoria è stata portata a casa soprattutto dall'atteggiamento difensivo che abbiamo avuto nel primo quarto un po' meno del secondo abbastanza e l'unica pecca diciamo i primi minuti del terzo quarto dove eravamo un po' molli però dopo abbiamo ripreso subito le file del discorso e abbiamo portato penso meritatamente una vittoria a casa molto molto importante Coach sei più contento per i 68 punti subiti in un campo difficile come ieri o per gli 86 fatti? No soprattutto per i 68 punti perché noi non siamo la nostra squadra non è formata da difensori pazzeschi chiaramente è una squadra con giocatori che curano sì l'aspetto difensivo ma sono portati più ad offendere però con il lavoro di squadra difensivo stiamo riuscendo a limitare moltissimo le squadre avversarie oggi ripeto era una partita dove Iesi ha recuperato tutti gli effettivi e quindi era quasi al completo mancando solo Rizzitello ma dall'inizio dell'anno per noi ripeto il fatto di aver giocato tre gare in una settimana ci poteva essere un calo sia fisico che mentale ma sono molto contento per il lavoro fatto insomma ecco menzione soprattutto per un giocatore che oggi probabilmente ha giocato la sua migliore partita della stagione qual è Andrea Pastore? sì ma Andrea al di là siccome noi distribuiamo abbastanza nel senso che noi andiamo spesso in 4-5 giocatori in doppia cifra è vero che Andrea quest'anno non aveva fatto magari partite da 20 punti però è un giocatore che ti sa dare anche sull'aspetto difensivo spesso gli do magari il giocatore più importante e quindi io ero contento abbastanza è chiaro che se poi trova anche le giornate dove riesce a buttarla dentro con facilità è chiaro che per lui è tanto di guadagnato e anche per noi allora queste le dichiarazioni di un soddisfatto coach Tony Trullo Roseto che appunto si prende la testa della classifica ed è stata una giornata veramente pazzesca perché Giulia Nova con Focolaio Covid giocatori che sono ancora in corso di recupero asfalta letteralmente una corazzata come Ancona e Teramo che purtroppo perde davvero all'ultimo secondo con una tripla di Andreani per sintetizzare il tutto il basket è uno sport bellissimo e quest'anno il campionato è veramente bello perché poi vai a rivedere la classifica a breve la andiamo a rivedere equilibrio secondo me è la parola chiave quasi meno male che i centri scommessi sono chiusi esatto secondo me ieri chi ha preso i risultati ha un intuito pazzesco perché oggettivamente Montegranaro che vince a Fabriano Montegranaro si era in ripresa però ecco Fabriano sempre che diciamo in casa ha quel suo feeling ma anche Giulia Nova ripeto perché con Ancona non dico la davano per spacciata ma davvero come anche ha vinto la formazione di Zanchi perché ha dominato per tutti i 40 minuti vittorie contro Corazzate Roseto che come sempre si conferma una squadra veramente bella anche in crescita poi bella da vedere grande mentalità grande squadra nulla da dire dicevamo prima peccato soltanto per il Teramo in una giornata veramente intensa veramente bella si parte palla 2 con Lusvargi e ti perdi a contatto assolutamente assolutamente queste tra l'altro appunto le immagini della sconfitta della Teramo a Spicchi che tra l'altro Giacomo riprendo le dichiarazioni di Salvemini del coach Biancorosso che ha detto era un po' mareggiato sul fatto della non diciamo non capacità in questo caso di capire quando è il momento di vincerla perché Teramo era avanti di 10 lì ha detto Salvemini non siamo stati bravi a chiuderla vero la bastava semplicemente insomma proseguire un trend mantenere quella distanza senza neanche strafare per cercare di andare a chiuderla invece poi lì forse è mancata un po' la mentalità da grande secondo me si è andata a perdere una partita che oggettivamente si poteva vincere soprattutto per come si erano le messe le cose come detto giornata intensa e bella però questa è una una macchia ecco nel tabellone questa sconfitta di Teramo e si può dire anche ovviamente Teramo senza Francesco Faragalli ancora deve effettuare diciamo un vediamo insomma un acquisto per quanto riguarda il reparto lunghi però visti anche gli altri risultati Giacomo ti chiedo è un po' il primo momento di difficoltà perché comunque Giuliano e Montegrano hanno dato segnali importanti Civitanova ti ha battuto quindi nel senso ti ha comunque raggiunto e qui adesso bisognerà vedere innanzitutto se il mercato ti dà quel lungo che secondo me il coach Salvemini sta chiedendo da un po' di tempo si chiede e serve a questo punto anche perché come dicevi gli altri risultati ti devono far venire il fuoco dentro perché comunque vai a vedere squadre sulla carta più piccole dell'avversario battere queste compagini tu devi appunto scendere in campo con il desiderio di replicare quello che hanno fatto insomma le altre quindi è un campionato veramente bello aperto acceso e bisogna però iscriversi a questo campionato acceso e bello e quindi insomma avere anche anche noi un certo tipo di mentalità assolutamente allora chiudendo adesso la nostra rassegna stampa io volevo dedicare ampio spazio diciamo gli ultimi gli ultimi minuti a un tuo progetto perché se il calcio è il primo sport nazionale per quanto riguarda l'Italia ma nel mondo io direi che il fantacalcio è per ora secondo per ora per ora secondo me perché appunto bravo hai detto bene dal mio punto di vista anche per ora è secondo ma questo per dire siamo sulla pagina instagram di fantarete un progetto Giacomo vedete qui che sta insomma gestendo quasi 8.900 follower e praticamente insomma si parla di fantacalcio consigli strategie parlaci un po' ecco di questo bel progetto si è un progetto innanzitutto non solo mio siamo io e un ragazzo di Milano con cui Luca abbiamo avuto esperienze sia positive che negative con varie pagine instagram appunto dedicate al fantacalcio a un certo punto dopo un'esperienza veramente negativa abbiamo deciso ne apriamo una nostra quindi abbiamo preso qualche altro ragazzo noi siamo i fondatori ma in totale siamo 5 puntiamo ad ampliarci e nulla ogni settimana cerchiamo di dare i consigli migliori per vincere questo benedetto fantacalcio i nostri diktat sono la piena disponibilità a chiunque voglia chiedere un dubbio quindi nessuno rimane senza risposta come a volte accadeva in altre realtà e soprattutto diktat ancora più importante niente banalità quindi non andiamo a consigliare Ronaldo contro il Crotone per intenderci ma cerchiamo di dare i consigli che possono svoltare la giornata e ormai tra l'altro diciamo sta diventando veramente uno sport quasi strategico perché spesso viene confuso sul fatto che tu debba essere diciamo un tecnico un tattico ma in realtà il fantacalcio è un'altra cosa cioè spesso viene associato a dire vabbè se capisci di calcio oppure se lo segui ma non è proprio così in realtà perché devi avere anche occhio su chi può stare in forma su chi può essere un giocatore che ti fa per dire una stagione positiva e lì bisogna avere intuito secondo me devi essere un allenatore non c'è nulla devi essere presidente innanzitutto e allenatore quindi secondo me oltre ad essere ovviamente un gioco appunto quindi bello e finisce lì è anche molto importante per accrescere la cultura calcistica di un allenatore perché veramente ti porta ad avere una concezione una conoscenza del campionato di Serie A a 360 gradi va veramente quindi penso anche se in realtà già tuttora mister di Serie A giocatori che abbiamo intervistato ci hanno confessato che negli spogliatoi anche quelli più grandi quindi impensabili si fa il fantacalcio quindi insomma secondo me da qui a dieci anni stiamo parlando di realtà ancora più grande di quello che è adesso per concludere ti chiedo anche se con la situazione di crisi insomma dovuta al covid ci sia stata una crisi nel fantacalcio o se invece vedi appunto una crescita per quanto riguarda questo gioco penso che ci sia stata una crescita in realtà penso di sì perché anche nel momento in cui il campionato si fermò l'anno scorso ci fu possibilità però di approfondire determinate tematiche e soprattutto il covid ha portato anche nel calcio dei rallentamenti delle situazioni poco belle molti si sono rifugiati nel fantacalcio apposta molti stanchi anche di situazioni con la propria squadra del cuore con determinate tematiche insomma che non sto qui a dire hanno deciso insomma di diventare allenatori si può proprio il caso di dirlo diventare allenatori di una fanta squadra invito quindi a seguire Fanta Rete o comunque a seguire in generale il fantacalcio assolutamente la state vedendo appunto la pagina Instagram quindi vi invitiamo a seguirla Fanta Rete hashtag andiamo a rete quindi la trovate ovviamente sulla piattaforma Instagram io ringrazio di cuore l'amico e collega Giacomo Novelli grazie Giacomo grazie a voi ancora grazie soprattutto a voi anche che ci avete seguito di prima mattina come sempre torna domani in diretta alle ore 7 buona giornata a tutti ciao grazie a tutti